non è un night show questo è un late 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 show mi sento un po' Conan O'Brien no che fai o David Letterman ok allora è mezzanotte e quarantadue minuti nonostante Virmone che posso dire ringrazio e saluto con grande 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 affetto eh abbia fatto un po' spartita molto breve perché mancavano mancava siamo stati come la Juventus mancava il capitale umano come Jay Leno dice Mario Luigi grazie mille eh mi so mi sopravvaluto un po' oggi però però è così eh questo il late 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 show che verrà anche caricato su YouTube in realtà stavo per fare una cosa su YouTube giusto per non far mancare nulla anche alla piattaforma rossa poi che è successo è successo che la la e la la chat del disc metto ma a sto punto va in live e quindi sono live sono appena tornato a casa da siamo in terza serata sì sono appena tornato a casa da eh dallo stadio dal lettore giardiniero detto anche via del mare di Lecce c'è poca gente qui in live ma comprensibilmente perché mezzanotte e quarantatré se poi chiaramente volete entrare e volete discutere con me e a farmi anche delle domande eccetera su quello che ho visto eh fatelo pure assolutamente se volete anche contribuire alla riuscita di questa live abbonatevi dateci una mano siamo a quota già primo giorno nove sub però dato che sono in live a mezzanotte e quarantaquattro io credo che meritiamo un qualcosina di più sono il vostro manzullo quindi aspetta eh com'era la domanda marzulliana ma la Juventus aspetta la Juventus è forte solo quando vince o vince perché è forte questa è la domanda marzulliana allora salutiamo i ragazzi che ci sono e chiaramente siamo un po' di meno ma grande grande stima per voi ciao ready to scroll ciao peppe ciao ale ciao forza juve ciao sim no non farò grossi rent in realtà ciao ciao andrea grandissimo da neapolis mille persone ah perché ci sono mille persone ancora live sono quelli a sentire le minchiate di jb che parlano di paura e vabbè ognuno c'ha quello che si merita che vi devo dire poi 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 sostituzioni proprio su questo sono d'accordo sono molto d'accordo ne parlerò live sei riuscito a capire per qualche dettaglio sulle cose che funzionano sì molte molte cose no ragazzi il bicchiere per me rimane mezzo pieno rimane mezzo pieno chiaramente a dirle oggi queste cose sembra un deficiente e ho anche la faccia un po' da deficiente però io non perdo la fiducia lo dico sinceramente chiaramente non è un gran risultato non è un pessimo risultato allora è un pessimo risultato della Juventus questo bisogna dirlo è cronaca no è un pessimo risultato della Juventus alla luce del fatto che il Napoli ha vinto che magari l'Atalanta domani vincerà quindi sicuramente non parte bene dicembre io dicevo la Juventus deve avere la pressione di vincere le partite di questo ciclo Lecce Bologna Venezia Monza è partita male facendo il risultato che conosce meglio oltre alla vittoria perché la Juventus ha il 50 per cento di vittorie il 50 per cento di pareggi dunque non parte bene dunque non parte bene allora ciao forza Juve ciao ancora Andrea ciao Slevin se il nostro Marzullo ciao Nick Flo io arriviamo ho paura che non arriviamo meno delle prime quattro ragazzi questi discorsi non vanno fatti non hanno senso oggi questi discorsi oggi non hanno il minimo senso mi dispiace dirvelo vi dovrò bastonare se mi fate questi discorsi io voglio parlarvi d'altro la mia unica domanda è perché pensi che la Juve possa ancora vincere lo scudetto dopo questa giornata perché gioca bene e oggi per 60 minuti ha giocato molto bene poi la Juventus poi Tiago Motta non la Juventus Tiago Motta ha fatto due cambi stupidi io ho chiesto anche quando c'era Virmone Live perché avesse tolto Gatti pensando io dallo stadio che avesse avuto un problema fisico e mi sono anche un po' preoccupato detto minchia ne abbiamo perso un altro mentre mi avete detto voi che ha pesato anche i problemi disciplinari è stata una fesseria perché tra l'altro lo dico perché io ho un mio amico di posto che sta seduto dietro di me con cui parlo anche di live bianconera di cose della Juventus eccetera ho detto girandomi ho detto adesso che a totto Gatti la coppia centrale è Danilo più Calulu il Lecce ora potrebbe attaccare anche la verticalità e fare molto male e così è stato così è stato nell'occasione del giallo che ha rimediato Danilo nel corso del secondo tempo che tra l'altro ora non lo so ma magari potevano pure starci gli estremi del rosso forse no ma non me ne frega niente di parlare degli arbitri e la seconda cosa è il gol preso anche a difesa schierata ma di un riparto che non funziona bene di un riparto che evidentemente così non è assortito bene Danilo ha fatto molto bene quando ha giocato terzino bloccato limitando un già limitato Tete Morente e Danilo lì oggi in palleggio ha fatto una buona partita il problema è che poi lo rimetti centrale e questa coppia centrale Calulu Danilo non è proprio per caratteristiche ben assortite e la Juve ragazzi ha giocato male nell'ultimi 30 minuti 20 minuti la Juventus ha giocato molto male e il pareggio del Lecce è altamente meritato io potrei anche star qui a dirvi il contrario ma non è così il Lecce quando ha preso gol tra l'altro l'ha preso forse nel momento migliore proprio del Lecce ha preso quel gol con deviazione di Cambiaso poi la Juventus non ha legittimato il vantaggio eppure doveva uscire la sicurezza del palleggio nel primo tempo la Juventus ha avuto una sicurezza nel tenere pallone pazzesca incredibile questa cosa non l'ho riscontrata mettere in campo dentro pugno rui un fagioli patetico un fagioli ridicolo quelli sono i errori totalmente ascrivibili alla figura dell'allenatore che è Tiago Motta Tiago Motta oggi anche qui la preparazione da sette la gestione della la partita è da quattro oggi va detto va detto oggi fagioli prende un giallo stupido entrato in campo con lo stesso spirito con cui è entrato contro la Stoneville a burningham e non va bene io capisco che siamo corti limitati eccetera però se tu il ragazzo non lo vedi bene a questo punto metti metti papadopulos per dire meglio uno che non ti crea un danno ma credo che queste siano le ultime partite ragazzi di fagioli con la mare della Juventus credo che siano le ultime partite quindi però venendo alla tua domanda Antonino io penso che comunque la Juventus non sia una squadra che gioca male penso che la Juventus possa non vi ho detto possa lottare per il campionato lo penso ancora ancora perché siamo al 2 dicembre adesso già lunedì siamo al 2 dicembre siamo al 2 dicembre quindi non è niente perso se poi come dire qualcuno non ci crede qualcuno vuole tirare il freno a mano qualcuno vuole scendere o salire dal carro a seconda della convenienza va bene io non sono quel tipo di persona come mi vedete non sono né nervoso né arrabbiato perché tra l'altro vorrei anche dirvi questo questa è una partita che finisce 1 a 1 ma è una partita con un paio di errori che doveva finire 0 a 0 ed è in striscia con i due 0 a 0 precedenti quindi l'analisi ragazzi non è cambiata rispetto da 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 mercoledì fino ad oggi non è cambiata è sempre quella è sempre quella leggiamo 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 non vince noi problemi ci sono problemi ci sono non vince vince perché vince o perde perché questa è la domanda marzulliana sì 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 la juve se non gioca non vince differenze questo è vero questo è verissimo la juventus ha bisogno di andare a mille all'ora per vincere o comunque ecco di giocare molto molto bene per vincere ma questo perché perché per me prima prima dell'assenza di vlavic era corta nel reparto offensivo con l'assenza di vlavic non è corta non esiste non esiste e quindi è ovvio che sia così forza juve è ovvio che sia così deve macinare gioco oggi per un tempo l'ha fatto bene ma era 0 a 0 era una partita da 0 a 0 non ci dobbiamo prendere in giro una partita da 0 a 0 ha parlato gli legati sono d'accordo sono d'accordo sono d'accordo ripeto chiedevo una motivazione ma evidentemente questa motivazione non c'è o è poco plausibile o è poco seria ecco o è poco seria allora leggiamo ancora tutto il secondo tempo male ma primo quarto d'ora pure bene era partita era partita un po' aggressiva nel secondo tempo la juve però poi lecce uscito va detto e ciò con una bella partita ha giocato veramente una bella partita e quindi il pari secondo me è giusto e sacro santo stavo cercando su youtube la live post partita e non c'era nulla ora mi trovo e lo so allora l'idea era di caricare il post con gli altri ragazzi su youtube però fede mi ha detto virma che te ripeto saluto e ringrazio ancora federico si merita tutti i ringraziamenti di questo mondo ragazzi mi ha detto guarda non la caricare nemmeno perché non è stata è stata una non live dato che non è entrato nessuno ho cercato di entrare io dal da lecce quando sono uscito dallo stadio però mi si sentiva molto molto male quindi spero che appreziate e diciamo una live a giustifica va bene a parziale giustifica ciao maxi gunner caro direttore caro carissimo dimmi sono pronto a essere subito di insulti ma proprio non ce la faccio a muovere mezza critica nei confronti di dire che sta fringendo il pesce con l'acqua e dire poco sui cambi ha sbagliato sui cambi ha sbagliato su cambi ragazzi i cambi fanno parte della partita i cambi fanno parte della partita e li ha sbagliati detto questo la situazione non è cambiata da mercoledì ad oggi non è cambiata da san siro ad oggi questo miniciclo è fatto con 13 calciatori ed è una questione molto è una crisi difficile da affrontare ora ci sarà una settimana ma non voglio nemmeno vendere sogni ragazzi vediamo quanti vediamo quanti ne recuperiamo le partite vedremo se le potremo giocare con 18 uomini con 13 con 20 fa tutta la differenza del mondo raga parlare oggi di scudetto non ha senso per me parlare di classifica non ha senso io l'obiettivo finché la matematica me lo consente lo metto sempre verso l'alto sempre a prescindere a prescindere poi sono sei punti quanti sono sono sei punti per me non ha senso né chi parla di quinto posto né chi parla di quarto né chi parla magari di scudetto io dico la juventus ha tutte le carte in regola per lottare ancora perché lo penso non vuol dire che vincerà lo scudetto dico che deve giocare deve ragionare patita 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 e vedere dove si troverà ma perché deve deve precludersi una strada io questo questo aggiornamento mi da annoia io non mi precludo niente non mi precludo niente non ho ancora per tra l'altro non ho ancora perso la partita in campionato perché manco il lecce ha battuto la juve ok no arte night tu mi fai arrabbiare io posso anche ripeto lei io sono la persona più serena del mondo stasera credimi però a me il tuo tono che usi sul discord spesso non mi piace perché hai un tono che in america chiamano i told you so no e quindi te la prendi con chi fa dei pronostici ma i pronostici diceva vuccia d'imboscov solamente chi li fa li sbaglia se te non ti non prendi mai posizione su nulla non puoi sbagliare su niente io faccio le live faccio i contenuti youtube anche per prendere una po io non sono un moderato io non sono un moderato io sono estremista spero nel bene spero nel bene non sono un moderato e la gente viene a guardare i miei contenuti i nostri contenuti i contenuti di youtube eccetera no per sentire un'opinione che sia anche sbagliata che sia forte che sia scarsa se però poi ogni opinione deve diventare una roba ma io ti dicevo che non è ma uno che cazzo me ne frega paralmente che tu dicevi un'altra roba lo dicevo io che non era ma che cazzo ma uno non conta più niente non conta più niente non conta più niente e due lasciano tutti tutti i discorsi compresi miei lasciano il tempo che trovano ragazzi noi siamo qui per combattere la noia e la morte banalmente per tenerci compagnia a vicenda fino alla fine dei nostri giorni sono un po un po filosofico stanotte ma vale la pena veramente io lo dicevo io mi sembrate i personaggi come si chiama aspetta come si chiama il personaggio della serie di maccio capatonda c'era elbert ballerina che faceva un personaggio io ho visto tutto col binocchio e sti cazzi poi la tragedia è successa leggiamo 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 quindi non mi fate arrabbiare perché non sono manco arrabbiato ripeto non sono manco arrabbiato io questa partita purtroppo non la vivo non la vivo nemmeno bene no questi lecce juventus perché poi mi rompete le palle per chi tifi per chi non tifi cosa hai provato mentre segnava la juve cosa prova ma che cazzo devo provare ragazzi ma io ma pensate che vado allo stadio per picchiarmi con le persone lo stadio come le partite in generale si mi appassionano sono accalorato ma sono una forma di intrattenimento alla fine a cazzotti allo stadio non faccio non sono un fascino roso vorrei che fosse chiara questa cosa ecco o come dire visto la partita con un sacco di persone che ti fanno il lecce che sono miei compagni di stadio tranquillamente loro sanno anche che è un canale youtube ma non è successo assolutamente niente c'è stato qualche momento di tensione con uno con uno però niente di che ma non con me chiaramente basta sapersi comportare a questo mondo capite probabilmente ero giocando la mille volte non finisce no sai perché non sono d'accordo perché per me finisce zero a zero perché se tu pensi che la juventus avrebbe vinto ti dico di no per me sarebbe finito a zero a zero perché il gol della juventus è abbastanza fortunoso è una deiazione finisce zero a zero finisce zero a zero con la benzina che avevamo nel secondo tempo anche il borgo rosso ci avrebbe massacrato però la juventus deve gestire meglio il possesso i dargos la juventus deve fare una cosa deve addormentare la partita deve addormentare la partita con il palleggio e la juventus negli ultimi 20 minuti non ha tenuto il pallone e questa è una cosa grave questa è una cosa grave la juventus io mi sarei aspettato dopo il vantaggio avrebbe tenuto quasi innervosendo il lecce il possesso di palla e la partita sarebbe finita a zero a uno invece il lecce che non ha grossissimi palleggiatori pensate che il miglior palleggiatore del lecce forse rafia che tutto dire non ha gestito bene secondo me non ha gestito bene non ha fatto quello che sa fare bene ed è questa una cosa grave per bologna chi recupera bologna è sabato qui siamo ancora lunedì notte domenica per lunedì come faccio a risponderti amico mio con tutto il chiedo a cambiasso però la cavalcata solistica prima del godere lecce da tutta risparmiare è probabile però ha fatto un partitone cambiasso poi qualcosina ve la voglio dire voi chiedete raga le prestazioni con quando c'è un titolo e ti facevano pensare al livello scudetto sì le prese tu parli di prestazioni le prestazioni sì i risultati no le prestazioni per me sono sempre di alto livello sono sempre di alto livello grazie dottor duane per la sab grazie mille thank you è la decima ce l'ho fatta ce l'ho fatta grazie mille grazie mille grazie mille il direttore ha qualcosa di carlo calenda non i soldi purtroppo la colpa dei troppi infortuni anche di motta sbagliando la gestione di gonzalez sono su questo sì sono d'accordo sono d'accordo è colpa dello staff sì ci sta può starci può starci può starci abbiamo creato un'occasione gigantesca dopo cinque minuti ti riferisci a quella di cop miners le gigantesca non lo so se è gigantesca però sinceramente non so se sia gigantesca questo questa occasione da di turam ok 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 quello che fa incazzare il pareggio no uno all'ultimo sì su questo siamo d'accordo su questo siamo abbastanza d'accordo fa arrabbiare perché non devi prendere gol al novantatresimo può capitare nel calcio ma ripeto per me il pari è un risultato giusto è un risultato giusto e non ve lo dico per fare il 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 cretino un pochino come dire democristiano perché credetemi io non sono democristiano per niente e e allora voglio voglio un po' analizzare qualcosa con voi se se mi è consentito poi ripeto se avete curiosità chiedete io risponderò cercherò di essere esaustivo il migliore in campo della juventus secondo me è stato ancora una volta con sei sao ha creato tutte le palle gol la juventus attaccava soprattutto nel primo tempo solo dal suo lato ciao 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 anche per il però era fuori gioco quella parata lì che ha fatto però attenzione come le vedo in televisione dallo stadio ho avuto una percezione che è uguale e identica è uguale identica ovvero che quando con sei sao in campo la juventus sia pigra offensivamente parlando perché si gallo ha fatto un partitone sono d'accordo tutta la tutta la fascia anche morente difensivamente ha fatto c'era il raddoppio sistematico su con sei sao ma io vi lancio uno spunto di riflessione da parte di chi permettetemi di dirlo la vista dallo stadio il lecce che ha giocato difensivamente una partita di completi raddoppi sul lato di con sei sao ogni volta che il pallone nella metà campo del lecce che lo gestiva la juventus andava sul lato opposto o addirittura per vie centrali con tu ram che per me ha fatto una gran partita creava molto più difficoltà al lecce la juve ne creava tantissime quindi che vuol dire vuol dire che questa squadra diventa pigra ma pigra nel pensiero non pigra nella corsa pigra nel fatto che vogliamo creare la superiorità numerica e damo la palla a con sei sao e damo la palla a con sei sao però così non ragiona una grande squadra da questo punto di vista è una soluzione un po' troppo monocorde per quanto mi riguarda e questo è un problema perché nel primo tempo c'è una verticalizzazione per locatelli molto interessante in cui il lecce rafia il giocatore designato a coprire il limite dell'area anche gli inserimenti centrali centrocampisti se l'era completamente perso questo che vuol dire che la juventus se inizia ad attaccare anche utilizzando le altre aree del campo male alle altre squadre le può fare lo può fare ma se la juventus vuole solo ed esclusivamente giocare sulla fascia destra per dare spazio agli isolamenti di con sei sao ripeto è pigrizia mentale è pigrizia filosofica credo altresì che questa sia un sia un concetto che è dentro i giocatori non credo che sia la tiago motta sway no non credo che sia un credo dell'allenatore che dice utilizziamo solo lui io credo che la juventus questi ragazzi se hanno un difetto per me sono straordinari ma un difetto ce l'hanno e che mentalmente si impigriscono e dicono oh abbiamo questo che salta l'uomo abbiamo questo che è una scheggia è velocissimo mette tutti in difficoltà diamogli a lui scaricando le proprie responsabilità eppure hildiz e anche copminers il pallone spesso l'hanno richiesto oggi copminers il pallone l'ha richiesto più volte centralmente ma non è stato servito non è stato servito e questa è una colpa della squadra è una colpa della squadra ecco perché ora ripetendovi ancora che è stato il migliore della juventus come lo è stato probabilmente a milano come lo è stato contro l'Aston Villa non vedo l'ora che torni Nico Gonzalez ma non per tirar fuori con Seisau che non anzi per renderlo più efficace in uno sprazzo limitato del match e per rendere una squadra simmetrica la juventus in questo momento non è simmetrica è una squadra che è tutta sbilanciata dal lato destro se gli avversari sanno che tu giochi solo dal lato destro fanno degli accorgimenti oggi Giampaolo cosa ha fatto? mentre tutti noi compreso me allo stadio abbiamo letto la formazione e abbiamo visto non gioca Pierotti gioca Morente ho detto no ma è un deficiente Giampaolo è un cretino ma cosa fa? mette questo scemo in campo che non si... ma sapete che ha fatto? ha fatto la stessa cosa che ha fatto Fonseca sabato scorso a Milano cioè lui ha messo Musa un centrale in più sempre però per raddoppiare il lato destro e Giampaolo oggi ha messo Morente che assieme a Gallo andava costantemente a raddoppiare il lato destro risultato con Seisau non lo si ferma né con uno né con due però dopo 50-60 minuti uno sopravviene la stanchezza due le altre squadre trovano accorgimenti tattici tre gli altri poi si rompono pure un po' i coglioni o non si fanno vedere quanto dovrebbero farsi vedere ma questa è una pigrizia che la Juventus dovrà risolvere anche perché vedremo se tornerà Nico Gonzalez contro il Bologna tornerà non lo so se tornerà non lo so se tornerà ma questa è una pigrizia filosofica mentale di questa squadra che deve crescere perché è troppo facile scaricare il pallone sul migliore che hai in quel momento e dire vabbè inventa tu fai tu quello che ti pare a te questa è una cosa che secondo me è grave è abbastanza grave non si risolve con Nico perché dice però 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 io credo che la Juventus si attaccasse meglio attaccasse in modo più ragionato adesso siamo nella situazione che è diventato il nostro quadrato sono d'accordo con te quando dici che l'allenatore deve dire oh signori dall'altra parte c'è Illiz centralmente c'è Copminers oggi Copminers molti ancora lo stanno attaccando io vi posso assicurare che Copminers il primo tempo ha fatto una signora partita il problema ripeto è che se noi centralmente non ci andiamo mai ma mai 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 andiamo solo da un lato Copminers manco lo vedi ma Copminers ha fatto un sacco di ruoli oggi in campo andava a cercarsi la zolla perfetta svariando dal centro dal sinistra dal destra se poi non ti servono Copminers non lo vedi grazie Jimmy Batte per la SAP grazie mille SAP numero 1 grazie di cuore grazie di cuore vediamo che si sta un po' rimpolpando la chat siamo già in tripla cifra vi ringrazio nonostante sia l'1 e 08 è spaisato certo ha cambiato spesso posizione però la squadra deve anche dare una mano deve anche dare una mano leggiamo per me potrebbe anche essere una colpa di Tiago io vedo una squadra che filosoficamente è molto pigra ciao squalo in che settore eri dello stadio la prossima volta sei un abbonatore non credo che tu sia un abbonatore del Lecce comunque la prossima volta che vieni un saluto io stavo in tribuna est tribuna est inferiore si vede benissimo va detto la mia postazione voglio farti un paragone che non ti piacerà Kenan esterno ha lo stesso problema di Sule no no ragazzi Sule quando ragazzi Sule quando nel primo tempo Sule quando è stato servito ha creato il devasto la Juventus c'ha un paio di tre giocatori fortissimi ma veramente forti uno è Consesau chiaramente l'altro è Copminers che crea molto scompiglio quando viene servito pure Cambiaso e il Diz di quelli visti oggi loro mi hanno fatto tutti impressione mi hanno fatto veramente mi hanno veramente impressionato ma adesso parso anche al lato positivo ma non perché vi devo dire vi devo dire le cose giusto per la qualità delle uscite adesso mi direte ma che cazzo ce ne frega l'hai appareggiato fatemi dire però quello che ha funzionato quello che funziona in questa squadra la qualità delle uscite che ha la Juventus già oggi non le ha nessuna squadra in serie A io di tutte quelle che ho visto l'Atalanta l'ho vista dal vivo ho visto tutte le squadre tutte compresi anche le partite in televisione oh c'è Matteo grande Matteo grande Matteo Matteo è il ragazzo che sta dietro di me e può confermarmi che mi sono comportato bene e che lui che mi avverete si comporta molto molto bene vi posso assicurare nei primi 50 minuti che la Juventus fa uscire molto molto bene il pallone lo fa uscire molto molto bene il problema sono gli ultimi 25 metri di questa squadra ragazzi il problema sono gli ultimi 25 metri in cui fa fatica assolutamente questo è un dato di fatto ma l'impianto la costruzione del gioco è di altissima qualità per quello vi dico guardate che sì c'è una crisi di risultati c'è una crisi di risultati ma non c'è una crisi di gioco vera e propria c'è una crisi di uomini su questo siamo d'accordo ma non c'è una squadra che qualitativamente ha l'impostazione della Juve poi negli ultimi 25 metri è una tragedia ve lo ripeto è una tragedia c'è troppa poca qualità al centrocampo per poter giocare per vie centrali io non sono d'accordo Turam secondo me la qualità ce l'ha e alla falcata che mette in grosse difficoltà le difese che affronti in Serie A ha lo strappo che dovrebbe utilizzare un po' di più parliamoci chiaro oltre all'infortunità la cosa è costruita veramente male abbiamo buttato 20 milioni per un portiere dove non serviva ma qua qua lo scoprirai un po' più in là a Blaster questo discorso perché Perin è più che sufficiente però di Gregorio ti offre qualcosa che magari con i piedi sa fare di più oggi però Perin ha fatto una grande parata ma credo che fosse fuori gioco tutta l'estate va stato dietro l'Atalanta per concludere sopra la fine per Copminers dove dopo tre mesi non riesce ancora a incidere sì ma non possiamo fare i processi per tre mesi Blasten non li possiamo fare ragazzi non li possiamo fare è abbastanza scorretta come cosa aspetta abbiate pazienza ragazzi abbiate pazienza poi sono il primo a dire dovrebbe fare di più ok provare ad arretare l'ha fatto nel secondo tempo l'ha fatto Anguli l'ha fatto nel secondo tempo sai qual è il problema che Fagioli è entrato in campo e ha fatto schifo l'ha fatto te lo può dire Matteo che stava allo stadio l'ha fatto nel secondo tempo ha messo Fagioli e nei due c'era Copminers Fagioli appena è entrato ha fatto un giallo stupido che tutto lo stadio compreso me compreso me sapete che ha pensato io mi sono girato dietro al caro Matteo ho detto oh questo si è giocato 500.000 euro sul giallo oh l'ha pensato tutto lo stadio l'ha pensato tutto lo stadio quindi hai voglia di sì ma puoi mettere sì ma se Fagioli è questo può anche non scendere in campo è così banalmente è così nel secondo tempo erano molto stanchi ha fatto cambi che secondo me li ha resi ancora più stanchi quindi questa è la mia disamina vediamo un po' giallo X sei contento del pareggio per il Lecce sì per il Lecce sì per la Juventus chiaramente non sono contento però io non sono ragazzi io quando vengo qui da voi devo fare la cronaca non devo fare posso anche fare il tifoso va bene io io oggi ricevo a me sapete quella cosa che mi fa arrabbiare arrabbiare da un certo punto di vista è che la gente su Twitter io scrivo il pareggio del Lecce è strameritato perché lo penso perché il Lecce per me ha giocato una partita degna di un pareggio e la Juventus non meritava di più del pareggio la gente dice e adesso Fabio ti arrabbierai la risposta che ho dato io sì sto scendo da via del mare tra poco vado a rubare una macchina ma come cazzo state io capisco che siete abituati alle youtuber che sfasciano le cose che fanno i rant falsi perché metà degli youtuber che fa i rant i miei sono tutti veri ve lo posso dire ma gli youtuber che fanno i rant preconfezionati non mi piacciono se voi cercate uno streamer uno youtuber che fa i rant preconfezionati tutti preimpostati con le soli ma che cazzo come si chiama quello della Roma che mi fa pure ridere che è simpatico ma come cazzo si fa ma come cazzo si fa come si chiama non è gabbo non mi ricordo più non mi ricordo più non è no ce n'è un altro ce n'è e si ma come cazzo si fa se voi volete quel tipo di contenuto ma sapete quanti ne trovate su youtube ragà ne trovate una marea ma io la recita non ve la so fare no 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 però la sciarpa l'avevo messa la sciarpa l'ho messa ma perché mi sembrava anche giusto quella che è casa del Lecce è casa mia poi come dire la partita va come va la sciarpa o meno e comunque ma sì ma non ci vedo niente di male ripeto non ci vedo niente di male comunque no non c'ho la fel sotto la fel non c'ho la male del Lecce perché fa freddo va bene non credo in questo progetto e mi dispiace per te mi dispiace per te spero che la squadra ti farà ricredere critica in generosa no no raga è entrato malissimo invece è entrato veramente veramente male lui deve dare la qualità ragagno se l'allenatore ti fa entrare in campo perché tu sei un giocatore di qualità e tu non dai qualità ma dai nervosismo la squadra ne risente e quindi da questo punto di vista no non sono d'accordo deve dare la qualità dovreste essere arrabbiati per la prestazione del secondo tempo sì parlo per i ragazzi della live poi l'abbiamo visto insieme nel secondo tempo la Juve non ha gestito bene la palla allora vi chiedo una cosa se vado su Dazoni in questo momento ci ascoltiamo Tiak Motta lo voglio ascoltare perché non l'ho sentito ripeto io sono tornato a casa da 10 minuti no 10 minuti no col cazzo perché sono già 38 minuti di live però lo voglio ascoltare voglio capire che cosa ha detto se ha detto qualcosa sul cambio eccetera però mi dovete mi dovete far capire dove cazzo trovo le dichiarazioni eccetera ah voglio aggiungere un attimino una cosa che è questa sono particolarmente contento e spero che le notizie che giungono da Firenze siano sempre più vere e sempre più corrette soprattutto sono contento che parrebbe fuori pericolo Edoardo Bove io prima di andare allo stadio ho visto le immagini da Firenze e credetemi stavo malissimo a vedere quelle immagini con i giocatori della Fiorentina anche in lacrime quindi per quanto c'è possibile non cambia niente chiaramente delle condizioni di salute del ragazzo siamo tutti vicini a un ragazzo giovane che gioca a pallone con la Fiorentina Edoardo Bove speriamo che si possa rimettere in sesto come uomo il prima possibile prima ancora che come calciatore ok sì in realtà di voi stanno veramente veramente brutto ripeto poi le notizie che sono uscite subito dopo ci hanno fatto rincuorare un po' credetemi è stato veramente veramente brutto invece secondo me molto bene sono d'accordo per me era una partita da pareggio era una partita da pareggio allora ho Tiago Motta però un attimo che devo devo un attimino devo un attimino scansare le pubblicità di Dazone sono sempre tante questi rompicoglioni aspettate un attimo ragazzi lo metto subito a schermo e ce lo guardiamo e ce lo gustiamo eccoci qui ci siamo mettiamo anche l'audio grazie aspetta Andrela un attimo che ringrazio la tua sub just a moment please just a moment grazie intanto per la sub fai la bellezza di 16 mesi è la sub numero 12 di questo mese 12 come il mese dell'anno che è l'ultimo 12 scavagliamola questa quota mi raccomando aspettate un attimo c'è anche un messaggio che ci scrivi mi sa no non c'è scritto nessun tipo di messaggio va bene allora ascoltiamo l'allenatore della Juventus Tiago Motta metto solamente l'audio altrimenti Dazon magari se mostra l'immagine mi mette nei casini prego se vissuto anche voi Motta questi momenti in cui non si sapeva nulla circa le sue condizioni prima di scendere in campo ovviamente per il riscaldamento e prepararvi alla vostra partita buonasera innanzitutto dispiace tantissimo per il ragazzo per i suoi compagni per soprattutto per la famiglia mi metto nella pelle della madre del padre e vedere un figlio che che passa un momento così non penso che sia penso che sia una cosa terribile sperando sempre che il ragazzo si riprenda e in questo momento stia bene che possa recuperarsi al meglio nel più breve tempo possibile che la famiglia si si possa tranquillizzare tutta la mia vicinanza sia il ragazzo e i suoi compagni ma soprattutto la sua famiglia padre madre di persone che alla fine vedere di l'immagine così penso che sia terribile grazie grazie tiago dobbiamo parlare anche ovviamente della partita della Juventus Valon parti tu sì buonasera mister chiaramente lei ha un modo di giocare dove fisicamente la squadra deve sempre stare bene quanto ha pesato questa sera soprattutto gli impegni giusto con una squadra ridotta che sappiamo sulla prestazione come quella di questa sera normale lo sapevamo prima si è visto un po' nel secondo tempo una squadra che abbiamo fatto un buon primo tempo nel secondo tempo abbiamo calato un po' la squadra è venuta un po' fuori sono andati in vantaggio e abbiamo preso questo gol all'ultimo continuare in avanti migliorarsi imparare degli errori e continuare in avanti e pensare a prepararsi bene per la prossima gara allora io voglio fare un pochino una sorta di di non mentalista perché non lo sono però sto vedendo un tono di voce e anche l'espressione del viso che mi sembra un bel po' depresso Tiago secondo me più che per il pareggio la situazione dell'infermieria ragazzi lo sta un po' devastando secondo me si aspettava di allenare in una situazione migliore ragazzi ragazzi lo vedete lo vedete in viso non è il Tiago Motta nemmeno il Tiago Motta che non vuole parlare è un Tiago Motta che dice ma che cazzo sta succedendo poi mi direte voi a colpe pure lui ma va bene facciamo il blame game no però se lo vedete in faccia la situazione è paradossale ecco no chi me l'ha fatto fare io non sono d'accordo perché allena la Juventus passa dal bono alla Juventus è un upgrade nella sua carriera però è un po' di come si dice di depressione calcistica evidentemente ce l'ha è anche giusto che ce l'abbia ecco da questo punto di vista Marco Parolo sì mister ti porto sull'ultimo sul gol preso in quella situazione è più cioè l'idea di cambiarsi comunque di prendere palla portarla in avanti in conduzione da più fastidio il fatto di non aver letto ma è la situazione che in quel momento poteva magari aprire il gioco io lo sto rivedendo per la prima volta in tv stanno facendo vedere verticalizzazione per Christovic Andrea ha fatto la scelta in quel momento e i gol si prendono palla al centro bella palla con gli errori che alla fine oggi è stato ripeto una partita dove il primo tempo bene nel secondo tempo abbiamo calato un po' le spalle allora rivedendo il gol è la prima volta che ripeto lo riguardo in tv domanda domanda chi è che sbaglia allora secondo me c'è un errore particolare potrebbe essere di Locatelli che forse è scappato un po' troppo in avanti non lo so non lo so non lo so c'è un errore comunque allora il gol è preso a difesa schierata guardate l'immagine qua scusate qua è quello che vi posso far vedere è un gol comunque preso con uno due tre quattro cinque sei uomini in area di rigore ci sono sei uomini in area quindi non è un gol preso in ripartenza è un gol preso con sei uomini in area di rigore secondo me fa l'errore l'intero reparto non facendo bene il fuorigioco per niente e hanno accorciato male tutti è un errore brutto questo è veramente un errore bruttino sì la palla però la palla di Christovic la palla di Christovic è anche bella cioè passa in mezzo ai due dietro della Juve no? vedete passa in mezzo è una palla messa forte tesa è buona come palla l'errore secondo me è concedere diciamo quella linea nì a Christovic no non è un gol sculato che cazzo dici grazie Rick grazie a te quanto fai livello 1 4 mesi grazie di cuore la sub numero 13 del mese di dicembre no è un brutto posso dire è un brutto gol da prendere è un gruppo no il fuorigioco il fuorigioco lo dico quando pa no non al momento del cross di Christovic nello scalare secondo me la Juventus forse ha ragionato male di reparto non devi lasciare Ruiz sul Repic capirai se c'è Danilo non è che cambia tanto non lo so comunque vedendolo così è un gol veramente stupido che ha preso la Juve andiamo avanti oggi è stato ripeto una partita dove il primo tempo bene nel secondo tempo abbiamo calato un po' le spade del Lecce sono venute fuori è chiaro che prendere questo gol all'ultimo era una cosa che potevamo sicuramente evitare adesso pensare alla prossima sempre pensando che delle partite così dobbiamo sicuramente migliorare imparare certe cose e continuare a pensare positivo in avanti preparando già da subito la prossima partita sia fisicamente che la testa Tiago tra l'altro non sarà una partita banale quella contro il Bologna Alessandro Matri ciao Tiago buonasera no volevo dirti dopo l'infortunio di Dusan hai dovuto provare diverse alternative fermi 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 io blocco un attimo e voglio aggiungere mi dà un assist Matri no perché qua bisogna dire le cose poi mi vengono in mente e le dico cari Juventini che godevano dell'infortunio di Dusan Vlaovic quando si è fatto male con la nazionale adesso vi state rendendo conto quanto serve Vlaovic a questa squadra questa squadra in tre partite ha fatto un gol su una deviazione altrimenti non era manco questo gol di Cambiaso vi rendete conto che non si può fare calcio senza Vlaovic in questo contesto di squadra come è messa oggi oppure al prossimo strappo al prossimo infortunio muscolare al prossimo cambio che magari prende male state lì ma lo togli lo giochiamo senza Vlaovic giochiamo in undici contro undici vi rendete conto dell'importanza di un giocatore che sovraccarica anche le difese avversarie prendendosi un po' di botte quando le vuole prendere prendendosi delle responsabilità fisiche oserei dire vi rendete conto che senza Vlaovic sta squadra non riesce a battere manco il Lecce non riesce a battere il Milan chiaramente la Stoneville vi rendete conto perché sembrava prima che quando c'è stato quel weekend sì con un attaccante in generale ma non è che l'attaccante deve essere Pinco Pallino l'attaccante deve essere attaccante forte e si attaccante forte io spero che la gente si renda conto del sovraccarico anche no che diamo verso un centro avanti e poi dopo quando non c'è e non c'è nessuno non vale il discorso adesso giochiamo in parità numerica col cazzo col cazzo state vedendo le difficoltà di questa squadra sono d'accordo Matteo sì lo dicevo anche prima te l'ho detto anche prima allo stadio quella coppia lì non può girare per la Juve quindi è così speriamo che Vlaovic torni se sta bene certo se deve affrettare anche lui però vale la pena che vi devo dire andiamo avanti vice d'usa non hai uno che può ricoprire quel ruolo hai messo a volte Copminers hai messo Copminer McKennie contro Milan hai messo Weah a volte in Champions e oggi però non hai mai messo il Diz nella zona centrale volevo chiederti il perché di questa scelta nel senso che tu lo vedi tutti i giorni credi non sia un giocatore che possa far male in quella zona di campo che tra quelli che hai adesso a disposizione grazie da Russia aspetta fermi 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 non ricevevamo un ride dal 2020 grazie Gabo Cordo grazie grazie mille Gabo Cordo per il tuo ride con 27 spettatori benvenuti alla Bianconera questo è un canale che parla di calcio di Juventus e niente Corsa Romeo ha detto poco fa che se arriva un'offerta per Duce anche a gennaio sì ma a gennaio non arriverà nessuna offerta e quindi basta stop sono discorsi che non hanno senso non intendo nada de calcio manco noi tranquillo grazie per la sub Furioso Max grazie tre mesi con Prime grazie di cuore un attimo che aggiungiamo anche la dosa siamo a 14 grazie mille andiamo 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 Contiago vai soprattutto in partite dove come oggi comunque porti alzi tanto il baricentro e porti tanto il tutto stesso ma sei argentino sei abbiamo subito un ride da un canale argentino ma non siamo brasiliani qui amico abbiamo subito subito abbiamo avuto un ride davanti di un canale argentino vamos vamos argentina vamos no è messicano messico o è argentina come devo parlare devo parlare come va tanto come devo parlare come come ho finito il mio spagnolo damo sì lo può fare l'ha fatto per un periodo o un momento contro Lille è chiaro che lui in quella zona che ha giocato oggi del campo quando troviamo una squadra che si ricompatta e che cerca di lasciare il meno spazio possibile dobbiamo arrivare in aria e arrivare in aria oggi con lui su una fascia con Francisco dell'altra e lo abbiamo fatto anche nel primo tempo uno l'abbiamo attaccata bene e l'altro potevamo fare fermi fermi avete sentito che ha detto Tiago ha detto una l'abbiamo attaccata bene fascia l'altra potevamo fare meglio ovvero non l'abbiamo attaccata neanche per un cazzo vedete 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 che si scende sempre l'analisi ragazzi si scende sempre a patti con l'analisi giusta c'è stata fatta se potevamo attaccare meglio eh strano sai alla fine portiamo la palla in una zona del campo che poi anche lui ha la libertà perché Andrea può venire e Jonas nel secondo tempo possono venire in sovrapposizione lui occupare o occupare no lui arrivare in una zona pericolosa eh lo può fare perfettamente eh è diverso è diverso il giocatore stare già lì e arrivare in una zona dove può creare la difficoltà all'avversario eh oggi lo vedo più da arrivare che stare sempre sottolineando che in un momento contro la partita contro il Lille è stato lì in quella zona del campo eh sa fare tutte e due sa fare tutte e due oggi ho scelto oggi ho scelto Cimo Cimo da profondità Cimo è un ragazzo che che sta aiutando tantissimo non è squadra penso che sì anche qui però un attimo scusate ma aggiungo qualcosa Cimo ci si sbatte fa tutto quello che vuole ma in mezzo a Baschirotto e Gaspar non l'ha vista ragazzi non l'ha vista ma è normale ma non è un attaccante raga non è un attaccante una ria punta non l'ha vista mai Uea raga non l'ha vista mai perché? perché su Ducristoni manco cioè poi ragazzi mi posso assicurare poi Jampalo Baschirotto e Gaspar hanno avuto difficoltà a tenerlo hanno avuto difficoltà e poi Jampalo Uea non hanno difficoltà perché loro su due grassi grossi grassi nel senso piazzati non hanno difficoltà a tenere Uea eh non ne hanno difficoltà ma non è colpa di Uea capito? puoi attaccare la profondità però bastava un Christovic tu dici Christovic ti fa bestemmiare in altri sensi però eh vamos tempo è uscito un po' troppo di quella zona dove contro una squadra che non faceva un grande pressi non avevamo bisogno abbiamo parlato con lui tra primo e secondo tempo e nel secondo era più in quella zona lì per poter attaccare l'aria è chiaro che in quel momento abbiamo creato un po' meno e la palla non arrivare in quella zona che lui possa concludere le azioni va un po' più in difficoltà però è buona l'osservazione tua è chiaro che Kenan può giocare in entrambi posizioni sia aperto che che da punta centrale c'è Perin però credo che c'è Perin è uno schietto volete ascoltare Perin oppure non ce la frega un cazzo volete ascoltare Perin oppure no ditemi voi se no continuiamo facciamo altri dieci minuti ragazzi sono quasi le due io non ho ancora mangiato nulla praticamente sono un cretino allora pure piccoli andrebbe bene alla Juve sì ma se io posso dire io ho fatto il nome di piccoli come backup di Vlaovic la gente mi guarda male perché pensa che la Juve deve prendere Zierxè cambio di Vlaovic che è già una roba da mente catti secondo me a pensarlo con tutti i difficoltà che abbiamo in altri ruoli però però così è così è così Perin sti cazzi sti cazzi aspettate che per un attimo me ne sono no no colpa mia colpa mia colpa mia per un attimo me ne sono andato per un attimo me ne sono andato io cliccando per sbaglio ma ci sono mi vedete mi ascoltate ci siamo ci siamo sti cazzi anche di Villani effettivamente perché il Lecce non l'ha riscattato perché alla fine il Cagliari l'ha preso per 12 milioni che il Lecce non può spendere quindi è semplicissimo e il Lecce ha preso Rebic che ha purgato la scherzano che è purgato purgato la Juve questo è vero questo è vero sarebbe stata un'uscita di classe di sì un'uscita di classe un'uscita di classe Jurgen Klopp i primi tre anni a Liverpool fece un ottavo e due quarti posti io ci credo sì ma questi sono discorsi che ragazzi per me non hanno tanto senso allora per me sbagliate io lo dicevo prima che iniziasse la partita c'era Roby che saluto tra l'altro se ci sta ascoltando che nella mattinata ha messo la grafica che non riguardava la Juventus riguardava il Bologna e questa grafica c'era scritto era una grafica di cronaca di spogliatoio c'era scritto il Bologna ha fatto gli stessi punti con italiano uguali a quelli di Tiago Motta l'anno scorso ma come queste grafiche questi numeri queste considerazioni per me non hanno senso né in positivo né in negativo può essere un riscontro oggettivo è dimostrabile di qualcosa se per esempio il paragone lo faccio col Napoli dell'anno scorso con quello di quest'anno perché lì vedi la differenza di 30 punti e lì è troppo ampia la differenza che ti viene da dire sì ma allora quella squadra non valeva i 50 punti che ha fatto 50-60 non lo so quanti ne ha fatti ma è un numero molto elevato per il resto dipende da come stanno le squadre da che tipo di progetto stai instaurando da che tipo di mercato hai fatto soprattutto anche da che tipo di calendario hai affrontato perché adesso per esempio io ho fatto un punto voi direte sì avete ragione sono d'accordo che il punto della Juve è una sconfitta oggi avete ragione ma per esempio ne ha recuperato uno oh non mi dite che sto cacciando la sciarpa e mi sto bantando ma ne ha recuperato uno sulla Lazio che voi consideravate imbattibile che invece ha perso a Parma per dire tutti sti numeri qua oggi hanno poco senso hanno poco senso i paragoni che senso secondo voi la Juve anche per come sta messa male adesso farà il girone di ritorno che ha fatto l'anno scorso secondo me no secondo me no non lo farà magari le pareggerà tutte che sarà meglio tra l'altro perché le farebbe di più rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso come girone e parlo proprio di punti no sarebbe meglio ma non li farà tutti i stili scorsi non hanno senso non hanno senso e chi li fa li fa chi vuole supportare una tesi e dire avete visto dovevamo tenere io domando a queste persone ma lo domando anche a voi ragazzi e guardiamoci in faccia con grande onestà Tiago Motta alla fine dell'anno facciamo finta che non arriverà tra le prime quattro ok per me ci arriverà però facciamo finta che non arriverà la Juventus è giusto che in quel momento lì si possa anche guardare attorno e dire ma questo è il progetto giusto è l'uomo giusto o devo cambiare è il calcio è il calcio il calcio viene anche valutato sui risultati se no di che cazzo stiamo parlando sarebbe una follia ma io sono d'accordo che sarebbe una follia però se il tifoso juventino e la società Juventus ritiene che si è speso male si sta andando in una direzione sbagliata che devi fare quella domanda che faccio a chi fa i paragoni ecco dove voglio arrivare io la domanda che faccio a chi fa i paragoni o chi sta dicendo non dovevamo prendere allora facciamo finta che lo cambiamo perché magari la società potrebbe accontentarvi non accontentarmi io non lo cambierei qualunque posto arrivi ve lo dico subito ma facciamo finta che la società accontenti in qualche modo la parte che vuole la testa di qualcuno domanda chi volete chi volete perché è sempre quello il discorso alla fine chi volete perché se ragazzi ve lo dico volete il terzo il terzo ciclo fate fate pure oh veramente mi apro villa afsim a sto punto tanto mi siedo mi siedo sulla sedia mi metto una sdraio fate 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 perché in molti vogliono un ritorno ragazzi non ci prendiamo in giro in molti veramente vogliono il ritorno tris vogliono il ritorno per la terza volta per la seconda volta anzi sarebbe la seconda volta che torna torna oh liberi eh ma sti cazzi ma se tanto lo volete va bene raga se tanto ma Conte non torna ragazzi Conte la natura del Napoli la scelta è stata fatta ma la scelta vuol dire anche che non ci tornerà più o me lo mettete in testa oppure no la Juve non ha mai considerato di rimettere Conte in panchina questa cosa vi deve entrare nel cervello se non vi è se volete voi invece andare retta a chi vi ha detto c'è un incontro Calvo Conte e lo vogliono mettere non è così cazzo non è così non è così non è andata così mi dispiace per voi se lo volevate detto questo se la Juve deciderà di cambiare perché a fine anno si sente scontente è legittimo chi volete rivolete lui ragazzi palle a mollo ma che vi devo dire di più ma che vi devo dire di più ma che vi devo dire di più sti cazzi e passeremo la stagione con la figlia che si è sposa e Galeone volete tornare se volete torniamo ragazzi ripeto era anche la fortuna nostra ascolti super argomenti tutti i giorni Galeone che rutta a me va pure tanto ma che vi devo dire io tifoso in questo caso mi metto la faccia del tifoso la sciarpa del tifoso sta roba qui non la voglio e penso che Tiago Motta stia lavorando bene e lo vedo sul campo il lavoro dell'allenatore mi armo di pazienza l'ho promesso a voi l'ho promesso a me stesso di armarmi di pazienza di vedere non solo le cose che vanno bene ma di vedere le cose dalla prospettiva giusta mi aspettavo che questa community rispondesse con altrettanta maturità che in molti non stanno dimostrando ve lo devo dire in molti questa maturità non la stanno dimostrando perché volevo italiano perché volevo Prandelli perché volevo Conte perché volevo il ritorno Tris no nelle B ritorno Tris no cerchiamo di dimostrare un minimo di maturità soprattutto alla luce del fatto che non mi pare che la situazione la situazione è tragica per gli uomini per i corpi ma non è una situazione tragica di gioco e vi arrivo a dire nemmeno di risultati e nemmeno di risultati perché comunque non ti hanno mai battuto sei è ovvio che c'è l'amarezza del pareggio è ovvio ma siamo là ancora siamo tutte là quattro punti sei punti sei sono troppi effettivamente sono magari iniziano iniziamo un po' a temere ma magari il Napoli non batte la Lazio la Juve vince e te riporti a tre che cazzo ne sappiamo finché la distanza è questa ragioniamo un po' ragioniamo un po' non buttiamo il bambino con tutta l'acqua sporca questo vi voglio dire io ed è un mio consiglio che vi do se poi volete lo youtuber che prende il microfono e se lo butta in testa assieme alla pasta se volete quello che vuole la testa di Giuntoli oggi eppure lo critico Giuntoli se volete uno che critica vuole la testa di Motta vuole la testa di Motta io lo critico Motta ma non voglio la testa di Motta signori il panorama YouTube Twitch è pieno c'è una varietà che ragazzi se andiamo su YouTube adesso aspetta andiamo su YouTube andiamo su YouTube sfogo contro Tiago Motta ci sarà qualcosa no? ci sarà qualcosa sfogo Tiago Motta per dire aspetta 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 c'è qualcosa no per ora non sto trovando niente Tiago Motta vediamo ma sapete quanti ne trovo di gente Tiago Motta Tiago Motta e si mettono tirano le capocciate al muto al muro Tiago Motta eccolo qua Tiago Motta è un pazzo deluso da Tiago Motta basta con i pareggi fuori gli attributi che non vuol dire niente questa fase non vuol dire nulla fuori gli attributi ma come cazzo si fuori gli attributi i calciatori in questo momento sono limitati ma non limitati come calciatori sono pochi sono pochi sono pochi abominio totale Giampaolo insegna calcio questo è Airway che c'ha un seguito importante Giampaolo insegna calcio a Tiago Motta siamo una squadra di non posso manco dire la frase perché Twitch mi farebbe bannare con questo che piange cioè aspetta volete questa roba qui aspetta ve lo dico se volete questa roba qui che questa è finzione questa roba qui ve lo dico subito mi faccio dei nemici non me ne frega un cazzo questa roba qui no 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 perché se volete sta roba qua chi è questo qua no fa finta di piangere davanti alla telecamera chi è vi piace sta roba questo secondo me è un pianto un pianto vero uno che fa la faccia così ecco boh bestemmia chi è fa finta di vediamo 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 ah che fai la spud che fai ah maia tua vediamo che dici ragazzi ragazzi ah ragazzi gli infortuni sì la rosa corta sì gli infortuni la rosa corta ma fa finta che sclera ma capite che queste robe sono recitate capite che queste cose sono infortuni eh ma che cazzo urli ma cosa fai il mezzo matto non sei manco credibile amico mio eh togli ma guardate che ragazzi se andate oh raga se vedete sotto il mio tweet che ho fatto dopo la gente da me vuole questo la gente da me vuole il matto che sclera ma io quando sclero quando sclero sono naturale che mi scappa la bestemmia mi scappa la roba ma sono rent modestamente sinceri la vedete pure lui voi la sincerità queste non sono robe sincere sono robe precostituite pre arte sono i rent fatti dall'Ikea sono de plastica tu li monti va andate da Ikea mi date un rent allora sì prego lo monti da sole se ti danno questa cosa qua non siete origini ma manco l'originalità che cazzo me ne frega dell'originalità sono robe che a me non piacciono se la gente viene su questo canale mo lo tolgo sto video non me ne frega un cazzo per aspettarsi questa cosa con la gente che spacca i microfoni che prende alle ca uno come dire l'attrezzatura io ho pochi soldi a casa già quei pochi soldi non voglio buttarli via quindi l'attrezzatura limitata che ho non la voglio buttare chiaramente non la voglio buttare l'ho pure pagata e questi hanno i miliardi magari se la comprano nuova io non ce li ho i miliardi e poi devo essere ripeto per quanto possa esserlo che sono un deficiente un minimo credibile con voi un minimo credibile con voi a gente ripeto se scrivete qua andate sotto il tweet che ho scritto aspetta 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 ma vi leggo i commenti vi leggo i commenti perché qua la gente impazzisce io stavo prendendo la macchina per andare in tangenziale est tra l'altro una cosa della madonna oggi e la gente mi scriveva aspetta 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 sti rincoglioniti ma guardate un po' voi allora aspetta uno il primo per fortuna prima di natale torneranno allegri e paradici se capisce poi fabio allegri l'anno scorso ha vinto 0 a 3 a lecce come mai perché ha vinto 3 a 0 perché in un'altra stagione e quello era lecce tra l'altro di daversa che stava andando verso una direzione sbagliata del campionato e infatti ha cacciato daversa va bene vai a poi vai a cagare pure te con sto cazzo di diago motta il tempo è finito minchione fai meno il fenomeno ma che io ma che gli ho fatti io i cambi ho scritto che il pareggio è merità ma capite il livello capite il livello andiamo avanti andiamo avanti a fine anno a casa lo chef a seguire il suo assistito quante risate vi facevate quest'estate questo è il livello dei commenti detto da te che sei il pippo che sei il pippo franco tipo la roba del come si chiama l'arbitro tifoso del calciatore sinceramente nel lecce fotte sega dice il signor demon che cazzo me ne frega di te tra l'altro il vero problema è stato il mercato giunto è stato spacciato per un fenomeno ma se escludiamo cambiato e calulo il mercato è stato pessimo io ho semplicemente scritto il pari è giusto che c'entra niente poi vediamo un po' ringra poi ringrazia il nostro grande coglione allenatore va bene poi andiamo avanti eccola questo mi ha fatto un po' arrabbiare il signor fraptus mi scrive mi aspetto un bell'incazzamento ora ho anche questo pareggio un insegnamento cioè perdonatemi ma uno che esce ma anche a casa che esce ma che deve fare deve prendere e sfasciare i vedi delle macchie che devo fare ma che aspettate ma che volete banalmente mi aspetto che tu sia ma se io non sono incazzato mentre gli altri anni ero incazzato perché avevo delle motivazioni dietro ma voi esattamente che cazzo volete andate e sfasciate la vostra camera fatelo va bene poi pagate i vostri danni dove sta il problema questo è ma mi sfascia ma capite ah già fatto posso dire bel coglione mi verrebbe da dire bel coglione bel coglione l'hai fatto o sei un coglione pagate la scrivania quello che hai letto va bene fatelo ok aspetta vediamo se andiamo avanti ti piace ecco questi i fenomeni ti piace lo spettacolo che portiamo sui campi di calcio questi sono i commenti questi sono i commenti giuntoli a motte imbarazzanti 8 pareggi su 14 manco fossimo il pizzichettone non parlate degli infortunati la preparazione non la faccio io tra l'altro non c'è mai una virgola in questi messaggi proprio come gli acquisti e i cambi a gara in corso indecenti senso nel messaggio sotto quel tweet non c'è questo ricevo capite voi mantenete voi dite ma Fabio ogni tanto i rent miei sono dovuti ogni tanto a ste stronzate che leggo perché altrimenti sono una persona pagata e tranquilla io con me si può parlare di tutto poi uno legge stronzate e viene il live a rentare ma mica facendo il rent con la faccina buffa con l'espressione da Hector Studio dei noantri ma anche no ma anche no poi si c'è il caso di Pierdomenio ma lì siamo veramente sulla siamo veramente sul fate questa zitto dai raga ma no ma ragazzi vedendola dal vivo era una partita da 0 a 0 lasciate stare il Lecce che io tifo per il Lecce va bene ok ma oggi è un X ma in cazzo se la partita meriti di vincere ma oggi non merita neanche di vincere la Juve e vedendo dallo stadio mi viene in mente una frase di un ex allenatore di football che si chiama Bill Parcell andatevi a cercare andate a googolare chi è ex allenatore dei New York Giants ma anche dei Dallas Cowboys che diceva you are what your record says tradotto in cifre tradotto in cifre sei quello che ti dice la tua classifica you are what your record says ok possiamo farci nulla no possiamo incazzarci perché dobbiamo avere più punti probabile però la prestazione di oggi o quella di mercoledì o quella di sabato sono tre X meritate che si ottengono sul campo stop 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 questo è non ci posso fare niente e spacca la sedia che cazzo sono the big show sono the big show capito questo è il punto questo è il punto ragazzi ridendo e scherzando sono in questo momento youtube tu guarderai tra pochissimo questo video ma io sto finendo di registrare questa live all'1.52 trovate un direttore che viene in live senza aver mangiato un cazzo dopo aver visto la partita allo stadio che vi fa le live fino alle 2 ecco st'altro vediamo iniziasse a mettere Idiz al centro che cazzo ha rotto i coglioni amico mio che ti devo dire poi secondo me Idiz Kirkzone te lo ripeto forse non c'eri prima anche se lo mette al centro quando gioca con Sessao la squadra va tutta a destra va solo sul lato destro puoi mettere Idiz a centro lo puoi mettere a sinistra a destra prima punta la squadra quando c'è con Sessao in questo momento è pigra mentalmente va solo dal lato di con Sessao solo sul lato ed è un errore ed è un errore non perché con Sessao sia scarso con Sessao è bravissimo è un errore perché sottovalo di tutti gli altri non sei una squadra che può dar fastidio in altri ambiti e sei monocord questo è questo è non sarebbe cambiato niente oggi con Idiz a centro non sarebbe cambiato nulla non sarebbe cambiato nulla credimi lo vi ripeto fidatevi dalla visione dello stadio fidatevi va bene detto questo ci siamo sentiti passate una buonanotte e niente ci vediamo domani pomeriggio per il caffè fermi 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 c'è una sub non mi volete far andare a dormire fermi tutti sub 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 sia buono il primo fai tre mesi Amazon Prime la sub numero 15 del mese 15 sub tanta roba oh ragazzi posso posso vantarmi un attimino chiaramente prendetela come gioco nonostante no no Virmone non l'ho battuto erano 9 ne ho fatte 6 io alle 2 e lui ne ha fatte 9 direttore si sbanca con le sub ragazzi scherzi a parte ci vediamo domani al caffè passate una buonanotte e niente statemi bene dai calma e gesso ciao giuven 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 fai la sappa per il direttore mi spiego con le dittoria la collezione nel pomeriggio aspetto il caffè l'alta poesia fornisce l'informazione è un mercato poco internazionale come Miguel dopo poco caro su discord parte la rivoluzione al tormentone era meglio tenersi sole una vera vittoria e il vincere si accatta un maggio perché è il giorno della liberazione fai come firmone giuven 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 non ho trovato la mia ragione ho fatto la sappa la ischianco nera che trasfogola la mia passione è il mio tupamento dalle quindici fino a sera con i lani che conduce tra cui scegli tono sincera ai plain abbassiamo la luce e bacca il cuore come giuven 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 Sì, 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 sì.